Al Pantheon festeggiato dalla parrocchiana più longeva la signora Lidia compie cent'anni. Un lieto evento visto coinvolti con emozioni variegate gli amici e la comunità parrocchiale del Pantheon riunite attorno alla signora Lidia Bartoli, la più longeva della parrocchia del Pantheon di Siracusa per spegnere insieme le candelline per i suoi primi cent'anni. Momenti di gloria e di lode al buon Dio per l'evento assai singolare che ha visto la signora Lidia circondata dall'affetto caloroso degli amici del parroco Don Massimo di Natale e del nostro ceresco come signor Francesco Allomanto per impartire la benedizione e ricevere la santa comunione del sindaco di Siracusa Francesco Italia che ha donato una targa speciale a nome dell'intera città e del comandante della polizia municipale del Finavoria. Gli intervenuti hanno visto nella signora Lidia un esempio da imitare per il suo guardare e parlare con gli occhi il suo sorriso contagioso, il suo amore incondizionato per la vita e per il prossimo il suo ieri che si fa oggi e domani con ancora più voglia di condividere e di fare. Grazie signorina Lidia per il suo esempio a tutta la comunità. Auguri!